Fuori l'indio, fuori! Bravo! Lascia stare il testo a braccia, lasciate l'altra, recupera le braccia! Lascia stare, venti in guida! Gabri, cammino sulla parete! Anche il ginocchio sullo stomaco! Tento che ribanta con la parete! Metti il ginocchio dentro, Gabri! Metti il ginocchio dentro! Metti il peso! Metti il peso! Metti il peso! Metti il peso! Metti quella nellaura! Tieni da fuori! Tieni da fuori! Gravissimo! Tieni da fuori! Bravo! Bravo! C'è tutto a fare! Ci sei! Ci sei! Ci sei! Ci sei! E' un pozzo! Dai controllo un pozzo! L'arma ne metti in triangolo! Sali con le gambe! Controlla le braccia! Vieni quel polso! Vai Capri! Vai Capri! Vai Capri! Vieni a salire! Non so la parete! Ok ci sei! Testa su! Testa su! Mezza a distanza! Vai Capri! Ci c'è! Ci c'è! Andrea! Perfetto! Vieni verso la parete! C'è la parete! C'è la parete! Vieni verso la parete! Vieni verso la parete! Enzo la scena! Non so la parete! Vieni verso la parete! Vieni verso la parete! Che c'è la parete! Està il confinamento! Vieni la parete! Vieni la parete! Vieni! Vieni! Grazie a tutti.